La D'Antoni Ascensori SRL è il leader del settore e realizza impianti moderni ed efficienti sia idraulici che elettrici. D'Antoni Ascensori, Cava dei Tirreni, via 25 luglio 277. Durante il corso della notte appena trascorsa nella zona montuosa, compresa fra vietri sul mare e Maiori, i vigili del fuoco, protezione civile e carabinieri del posto sono stati impegnati nelle ricerche di una turista francese di 21 anni che aveva perso l'orientamento durante un'escursione. La ragazza era partita ieri mattina da un sentiero di Dragonea nel comune di Vietri, con direzione Monte Falerzio, verso il santuario dell'avvocata, quando in tarda serata resasi conto di non riuscire ad arrivare a destinazione e né di tornare indietro, ha contattato il 115 dei vigili del fuoco, che, congiuntamente alla centrale operativa dei carabinieri, hanno attivato immediatamente le ricerche. Fortuna ha voluto che la giovane era riuscita a fornire, attraverso il sistema GPS in dotazione al suo smartphone, la propria posizione approssimativa. Dopo alcune ore di difficili ricerche, all'alba di oggi, anche grazie ad un esperto conoscitore dei luoghi, la ragazza è stata rinvenuta nei pressi del santuario della Santissima Maria Avvocata, in forte stato di shock. È stata quindi fatta scendere e condotta dai carabinieri presso la stazione di Maiori, per accertamenti del caso. Tranquillizzata e rifocillata, potrà riprendere il suo viaggio turistico.